Più di 20 tecnici di rete ferroviaria italiana provenienti da diverse province del Veneto si sono alternati nella notte per ripristinare la linea elettrica lungo la tratta ferroviaria tra Estrana e Castelfranco, danneggiata ieri da un camion che durante l'attraversamento del passaggio a livello di Vede Lago aveva urtato i cavi col cassone e rimasto aperto. La circolazione è stata ripristinata alle 6 di stamattina, 23 i treni cancellati, limitati nel loro percorso o deviati, attivato un servizio di bus sostitutivi tra Castelfranco e Treviso. Ora l'assicurazione del camionista rischia di vedersi arrivare due conti salati sia da RFI che da Trenitalia. Ciao, la carne è ben bruciacchiata. È l'SMS che domenica 19 aprile Manuel Palazzo, il 27enne di Romano Zellino, accusato insieme alla sua amante Lucia Logatto dell'omicidio del compagno di lei Aldo Gualtieri, avrebbe mandato dal suo smartphone alla sua coinquilina Affellette, Antonella Badoer. E quanto emerge dal contenuto dell'ordinanza con cui il GIP di Vicenza Stefano Furlani ha disposto che i presunti killer rimangano in carcere. Il macabro riferimento è al corpo del quarantenne assassinato che i due amanti avevano poi tentato di far sparire bruciandolo a Possagno. Una trentina di profughi già arrivati in settimana, un nuovo contingente di una quindicina previsto per domani mattina. Turni domenicali rivoluzionati in questura per garantire il personale per il fotosegnalamento e la sorveglianza dei migranti. Agenti richiamati al lavoro e tutto per affrontare come emergenza un problema che sta diventando quotidiano, sbotta il segretario provinciale del COISP Berardino Cordone. Non possiamo vivere così, abbiamo anche noi famiglie e figlie. Se uno deve stare attento a ogni minima cosa, deve stare attento a lasciare il telefono acceso, nonostante non è reperibile, è massimo. Quando basterebbe soltanto un po' di organizzazione. Il fondo a cassa ha qualche decina di euro, un computer, la macchina per il sottovuoto e una ventina di pacchetti di mozzarella. È l'insolito bottino del furto messo a segno nella notte al negozio Enrico Frutta di Via Piave a Montebelluna. Evidentemente, non avendo trovato molti contanti, i malviventi hanno deciso di portare via tutto quello che potevano comprese le mozzarella. Solo queste mattine i titolari si sono accorti dello scasso e hanno denunciato l'episodio ai carabinieri.